Noi continuiamo a avere questo calo, direi di evitare l'illusione di pensare che vada all'infinito, soprattutto perché capite che noi da lunedì siamo entrati in zona gialla. Curva del contagio ancora in calo in Veneto, ma il monito del governatore Luca Zaia è quello di non abbassare la guardia. Distanziamento sociale, mascherina e igienizzazione delle mani rimangono i comportamenti basilari da seguire. Ad impensierire il governatore in questo momento è in particolare il tema del rischio assembramenti. L'appello che faccio io è quello di fare massima attenzione. So che i sindaci delle città Coppoluogo mi hanno avvisato loro stamattina, mi ha avvisato il presidente Conte che è il presidente dell'Anci, e volevano fare una riflessione al loro interno. Noi non escludiamo di farne una anche nelle prossime ore. Ovviamente rispettosi del fatto che siamo davanti a un contesto sociale e economico che non ha bisogno ancora di ammazzate con ordinanze. Però è pur vero che il tema degli assembramenti è un tema che ci preoccupa. Sul fronte dei vaccini anti-Covid e le azioni annunciate nei giorni scorsi di ricerca sul mercato per un possibile e eventuale approvvigionamento, la regione ha confermato di aver avuto dei contatti. Le paventate disponibilità, tutte da verificare, anche se ormai c'è qualche carta anche scritta, più di qualcuna, riguardano vaccini autorizzati. In provincia di Belluno intanto, l'Ulsa Dolomiti ha confermato il trend in calo dei nuovi contagi. Stabile la pressione sulle strutture ospedaliere che si attestano nella fase di rischio 3 nella matrice regionale, proprio in virtù dell'andamento maggiormente confortante, da sabato è stata chiusa la medicina Covid al San Martino di Belluno. Al contempo sono stati attivati, sempre San Martino, posti letto di geriatria Covid-free.